Allora come beve la Nina? Mina! Senti ma è lei quella che sbagliava il calcio di rigore? Si! Allora se non c'era del Gregorio eh guarda il Mariani com'è in forma fammi un sorriso Mariani in forma disgraziata in forma disgraziata La schiacciata ce l'avete la schiacciata? Si vede eh? Ma con la Nutella! Sono anche quelle grattate dall'albero? Si speciale! Invece la pera? Chi è che si fa una pera? Ma io quasi quasi! Eccolo lì lui! Mi tiro mai indietro! Quando c'è da godere non mi tiro mai indietro! Esatto lui è la Susina! Speciale ottimo! Esatto va! Ecco la coppia più bella del mondo! Vota Antonio! Grande vota Antonio! E Lorenzo vedi impegnato sta vendendo titoli in borsa in questo momento! Vende e acquista! Vende e acquista! Devi dire vendi vendi vendi! Vendo vendi! Vendo vendi! Eccoci qua! Lui è già passato ai trucchi! Si è già pettinato tutto! Quindi qui bisogna fare una riflessione profonda! Ma te rifletti mai te? No io mai! E' un semiano specchio infatti! No non rifletto! Allora il pubblico aumenta il pubblico! L'altra domenica! Te se facevi la 35 avresti trovato un pool di cervelli nel video demenziale! Perché c'era il meglio della crema! Sarebbe stata la scuola di Atene di Raffaello! Tutti i filosofi! Comunque il video demenziale in questo momento sta toccando il fondo! Guardatelo qua! Come sempre anche oggi abbiamo toccato il fondo! Senti ma l'argomento di oggi? L'argomento di oggi è questo! Che te ti sei precluso la possibilità di vedere un brainstorming in atto! Cioè veramente! Non lo so a questo punto! Penso che tu l'abbia fatto apposta! Voglio lanciare un video anti-demenziale! Più cretino ancora del video demenziale! Comunque avevamo il filosofo col pigiamone lì! Non è stato male! Digno da noi cosa c'era? Chi c'era da voi? C'era c'era! Non facciamo... C'era tutto che immaginarti le vette! C'era la televisione... Un saluto! Un saluto! Un saluto alla televisione! Radio televisione italiana! Guarda chi l'ha visto! Questa la mangiamo a chi l'ha visto! Erano anni che non si vedevano! Oh per voi! Guarda qua! Era trent'anni che non si vedevano! Guarda qua! Si sono trovati qui in Frallulivi, signora! Hai visto che roba? Voi state lì? Guarda che pulizia ha fatto! Non te la! Non te la! Perché se no... E che qui te c'è il monopolio dell'informazione fra il sito e il video demenziale! Noi bisogna fare come Santoro! Si fa un video anti-demenziale! Si! E quindi ti si... Si hai detto che te fai Santoro! Si faccio Santoro! Vota Antonio cosa fa? Vota Antonio fa il ruotolo! Fa il collegamento con ruotolo! Collegamento esterno! Collegamento esterno! Poi lui chi lo fa? Lui, lui, lui sei te! Io e lei! E invece poi abbiamo... No Marco! Marco sei te cacchio! Simone fa il figlio di Silvio e Pier Marco! Pier Marco! E invece al Trota non mi dici chi è che fa il Trota! Il Trota potrebbe essere sempre Simone perché ha po' voglia di studiare! Esatto! Però lei è passato! E' passato a pieni voti! Eh va bene! Simone c'è il figlio del Trota! Ma c'ha tempo! Si ma adesso io l'ho già scritto in Albania lì! No! Lo lanciamo come Ermuggine! Ermuggine vabbè! Dai davvero Ermuggine! Simone Ermuggine! Versione centroitalica del Trota! Fermati così! Fermo! Non ti muove! Ti sei mosso! Senti com'è? Tutto a posto! Tutto a posto! La corsa! Quanti c'è davanti? Eh... Pochi pochi! Uno! Uno! Vabbè adesso la chiamo! Ma questa moto è tua! Si! Si vede eh! Vada! D'accordo! Altra roba eh! Da come ti appoggi lì! Pensavo della pulizia lì! No! Pulita è pulita! Si si! Ho visto di peggio! Si metti dietro! Eh vabbè una spolveratina! Fai fare qualche donna tanto! E così! Lo fanno volentieri sulle moto dei mariti! Vai! Ti saluto! Ciao! Famose pugne grattate! Eh? No no! Non sono grattate quelle! No no! Non sono! Le sono intere! Grattate da quell'albero laggiù! L'albero gratis! Ti vuoi c'è anche te! Ragazzi! Guardate va! La bellezza! Fa vedere col sudore! Guarda vai! Mi riflesso col sudore! Ti puoi specchiare! Uno specchio serio! È un filmino questo! Non è una fotografia eh! È un filmino! È vero vedi lo stesso! Vai sul sito lo vedi! È un filmato! È un filmato! È un filmato! È di qualche cosato! Un filmato! Un'impressione sulla corsa! È stata! È stata! È stata! È una corsa dura! È una corsa dura! È una corsa dura! Va bene! E non c'è! Dell'olivetese! O dove è andato? Deve essere scappato! Bravo! Ecco la bellezza! Sentite i frullini e gli uccellini! Che paesaggio! Si vede il mare! Marina già tutto esaurito eh!